Con questo esercizio coreografico possiamo dare al nostro nome una nuova forma. Date un ritmo pronunciando il vostro nome e associateci dei movimenti. Ora scegliete tra queste una parola che vi rappresenti, come fosse il vostro cognome. Danzatela esattamente come avete fatto con il vostro nome. Elisa ha scelto tenacia. Ecco qui alcuni altri esempi che potrebbero ispirarvi. Alessio Vita Asi Felicità Nan Dan Gioia Gemma Meravigliosa Marinella Comunità 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 ...